buongiorno a tutti e a tutte da andrea cartotto nuovo videocorso su una risorsa che nuova non è nel senso che pur se in qualche misura emersa ulteriormente in questi tempi mi ricordo benissimo quando la proponevo ai colleghi già molti anni fa ormai nei corsi lim che tenevo loro e il nome della risorsa nulla da installare perché è una web app è classroom screen.com sito di riferimento nulla da installare anche in questo caso come vedete ho avviato il browser programma di navigazione io consiglio sempre google chrome o mozilla firefox ambito di applicazione ideale della risorsa scuola dell'infanzia e scuola primaria ma non disdegnerei ad esempio la classe prima della secondaria di primo grado e come vediamo una volta raggiunto il sito di riferimento occorre fare un clic sul tasto verde launch classroom screen ed eccoci vedete cambia anche il sito di riferimento eccoci su app punto classroom screen punto com se credete a questo punto la precedente scheda con la sua x è possibile chiuderla guardate cosa abbiamo davanti a noi abbiamo un sito web perché di questo si tratta con in basso strumenti rapidi per poter lavorare lavorare con metodologia digitale tramite strumenti estremamente rapidi semplici che mi consentano di far interagire gli alunni questa risorsa la segnala anche l'amico albano battistella sulla pagina di divulgazione didattica che troviamo su facebook zorino s education italia e all'amico albano ho appunto segnalato che io ricordo bene gli anni passati in cui la mostravo già devo dire con successo ai colleghi e allora pensiamo banalmente a quando io mi trovi nella condizione di assegnare una verifica o un'attività a tempo e voglia banalmente un cronometro un countdown cosa faccio utilizzo il mio orologio utilizzo l'orologio digitale del computer della lim no io posso fissare quindi mostrare classroom screen e guardate tra gli strumenti proposti lingua inglese ma semplici clicco su stopwatch clic e eccomi qui start o clear può essere anche uno strumento pensato per alcuni contesti ed alcuni ambiti in educazione fisica ad esempio ho un netbook o un tablet con me lo porto anche in outdoor quindi fuori da avere ecco a voi gli ambiti di applicazione ma vedete che cliccando start cronometro cronometro il tasto lap naturalmente più pensato per un ambito sportivo comunque dove io debba avere degli inter tempi altrimenti pausa pulsante giallo clear pulsante rosso e poi vado sulla x ma ancora c'è il timer clessidra clic eccolo qua guardate è molto semplice molto familiare nell'utilizzo do un termine avete dieci minuti a partire da ora qui ovviamente c'è un tempo preassegnato ma con il più io posso incrementare o decrescere con il meno clicco sul tasto play countdown eccoci qua per quello ho fatto riferimento a uno strumento tanto semplice quanto formidabile per la lezione anche in presenza perché io me lo tengo alle spalle tengo classroom screen alle spalle e intanto procedo con la mia lezione non solo ma poiché come vedete quelli che si aprono sono degli widgets cioè dei blocchetti separati alla stessa maniera io posso tenere aperto un blocchetto guardate un po addirittura questa funzione vedete dice i dadi chi interroga oggi allora guardiamo un attimo clic quanti dadi tiriamo due dai ok allora il numero 10 una risorsa ve lo ribadisco semplicissima che però diventa liquida nel senso che ha talmente tante funzionalità che siamo noi di volta in volta a scegliere ad esempio guardate ancora per l'utilizzo proprio in classe quando indico classe faccio anche riferimento ad una presentazione schermo che io possa fare in dad con uno qualunque tra gli applicativi per la lezione sincrona ora faccio un po di pulizia guardate chiudo con x il primo widget riclicco sul mio can down e chiudo ancora con x ho la possibilità di inserire caselle di testo ho la possibilità di cliccare su draw e con la tavoletta grafica se non con il mouse o con gli strumenti che mi siano necessari ho anche la possibilità di tracciare per quello segnalo con piacere che è meravigliosa questa risorsa per la scuola dell'infanzia ad esempio guardate il semaforo allora chiediamo una cosa ai nostri bambini e se è corretta clic accendiamo loro il semaforo verde se è quasi corretta accendiamo loro il semaforo giallo e se la risposta è sbagliata accendiamo il semaforo rosso oppure ancora clicco sul pulsante rotondo work symbols eccoci qua silence occorre stare in silenzio quando vedete questo simbolo altro simbolo suggerire che possiamo interpretare come dai la tua risposta siamo poi noi a decidere a cosa corrispondano queste funzionalità e queste simbologie ancora un clic chiedi ad un compagno chiedi al vicino può anche essere utile per una lezione in lingua ad esempio ecco perché ho fatto riferimento alla secondaria di primo grado classe prima ma l'inglese insegnato e dunque le nozioni impartite nella primaria se si vogliono utilizzare le parole in inglese già negli ultimi anni dell'infanzia clicca ancora lavoriamo insieme le work together quindi molti strumenti slegati tra loro in apparenza ma assolutamente combinabili background ci permette di cambiare lo sfondo cliccando su qr code abbiamo la possibilità di digitare un qualsiasi indirizzo www.google.it e generare all'istante un qr code insomma non aggiungo altro alle funzionalità di classroom screen perché le lascio scoprire ancora di più a voi vi mostro sulla destra che abbiamo anche un pulsante turn on full screen per rimuovere in ottica presentazione schermo o lezione in presenza anche le classiche barra degli indirizzi e barra dei preferiti del mio browser vediamo dunque come una risorsa che perdonatemi lo ripeto anche qui esiste da anni e io ricordo bene quando la mostrava i corsi l'im sia preziosa anche perché migliorata naturalmente nel tempo oggi per poter utilizzare il digitale come alleato e mai come nemico ma per creare un linguaggio contemporaneo con cui rivolgerci ai nostri ragazzi vi ringrazio sempre per l'affetto e la stima con cui mi seguite e un caro saluto da andrea cartotto dandovi già appuntamento al prossimo video corso ciao